Il bagheria calcio nella prossima stagione 2018-2019 dopo oltre dieci anni tornerà a giocare nel suo stadio. L'impianto è stato chiuso a causa della pericolosità della copertura della tribuna dove si sono registrati i distacchi di intonaco. Lo farà grazie ai lavori di manutenzione che sono stati garantiti dalla società nerazzurra che potrebbe disputare il campionato di eccellenza anche grazie al successo nella pastata stagione della Coppa Disciplina. Il sodalizio diretto dal vulcanico presidente Riccardo Scardina ha infatti presentato la domanda di ripescaggio alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Queste ed altre iniziative sono emerse stamani nel corso della conferenza stampa di presentazione del bagheria Città delle Ville che si è svolta nella splendida location di Villa Cattolica, sede della galleria d'arte moderna e contemporanea, alla presenza del sindaco Patrizio V, il quale ha annunciato che il comune accederà al mutuo di 1.500.000 euro dal credito sportivo. Presentato anche il management della società che vede la new entry di Antonino Ticali, figlio di Tommaso, scopritore di talenti nell'atletica che negli anni passati ha pure collaborato con la società Nerazzurra. Il giovane tecnico Ticali allenerà la squadra di calcio a 5 nel prossimo campionato di Serie C1. L'anno scorso in sede di presentazione del campionato siete partiti con grandi programmi, addirittura tra le righe si capiva che volevate anche vincere lo del campionato, poi non finì così anche se la squadra della neopromossa ha fatto bene. Quest'anno invece i programmi quali sono? Intanto l'anno scorso forse c'è stato un misunderstanding, non abbiamo mai pensato di poter vincere il campionato, abbiamo sempre pensato a una salvezza tranquilla. I playoff sono arrivati, siamo contenti per i playoff. Per quest'anno intanto dobbiamo capire quale sarà il nostro campionato di competenza. Abbiamo già presentato domande di ripescaggio in eccellenza, speriamo di ottenere il salto di categoria in questa maniera. Se dovessimo ottenere il salto di categoria in eccellenza, io penso che sperare in una salvezza in eccellenza anche ai playoff penso che non sia disonorevole per una società che è da tanti anni che non calca questa categoria. Qualora dovessimo disputare il campionato di promozione, il miglioramento è quello che ci auspichiamo tutti, quindi se l'anno scorso siamo arrivati quinti, potremmo aspirare ad arrivare almeno quarti. È chiaro che in questi campionati, come in tutti i campionati, occorre avere un budget a disposizione. Voi l'avete e a quanta monta? Queste sono domande un po' delicate. Abbiamo un budget? Abbiamo fissato un budget? Stiamo avendo degli ottimi feedback? Già dall'anno scorso me ne sono accorto con imprenditori e sponsor locali. Questo non basta. Però conto che con alcune operazioni che stiamo facendo, quali la ristrutturazione della gradinata dello stadio, possiamo incrementare la quota abbonamenti. Quella potrebbe darci la spinta per concederci quel lusso in più, quel giocatore in più di categoria e qualche chicca, qualche ciliegina che in questa squadra sicuramente farebbe bene. Ci sono già nomi di giocatori che avete preso o che prenderete? Sterno si tratta di una vecchia conoscenza, Michel Di Cara, già col Bagheria qualche anno fa, viene dal Real finale. Il centrale è Alessandro Lepre, classe 89, ex Primavera Juventus, ex Voghera in C2, ha un passato a Locri in Serie D, a Leonforto in Serie D, negli ultimi dieci anni ha bazzicato fra Serie D e eccellenza. La società Nerazzurra ha inoltre stretto un accordo con il Centro Sportivo San Marco, che sarà la cantera della prima squadra grazie alla collaborazione della scuola Calcio Virtus di Vincenzo Bellante, che si occuperà di formare i giovani da fornire al riconfermato tecnico Marco Mineo, alla sua terza stagione alla guida della prima squadra cittadina, un vero e proprio record nella storia centenaria della società Nerazzurra. Penso che ha raggiunto un record, ha centrato un record, quello di essere l'allenatore del Bagheria per ben tre stagioni, non c'è un altro riferimento storico. Guarda, questo me lo stavi dicendo tu e per me è un ulteriore orgoglio essere alla guida di questa squadra così blasonata per il terzo anno. Spero che ce ne siano altri, dico io sono qui a disposizione della società, quest'anno sicuramente sarà un anno ancora più impegnativo, però ripeto per me è un orgoglio e un piacere. Quali sono i vostri programmi? Ma innanzitutto se promozione sarà sicuramente cercheremo di fare un campionato migliore dello scorso anno e quindi un campionato che ci possa portare nei primi tre posti e perché no pensare di puntare alla promozione in eccellenza. Se come la società sta provvedendo a fare la domanda di ripescaggio, se sarà eccellenza probabilmente dovremmo fare un campionato diverso, un campionato di una salvezza, visto il blasone e l'importanza del campionato e ci proveremo. La cosa sicuramente che salta all'occhio è che probabilmente torneremo a giocare nel nostro campo e questo sarà una cosa sicuramente che ci darà un plus in più. Grazie a tutti.